A Caltagirone i dipendenti comunali, che rivendicano ben quattro mensilità, continuano a presidiare per protesta l'atrio del municipio. Oggi, a distanza dalle persistenti condizioni di morosità, ai mezzi della Dasti non è stato consentito conferire rifiuti nella discarica di Motta Sant'Anastasia. Sale dunque l'attenzione dalle risultanti emerse e pare che si sia instaurando una sorta di guerra a distanza fra poveri, ovvero di caccia agli stipendi fra gli oltre 350 comunali e gli operatori ecologici della Dasti. Intanto, nel primo pomeriggio di oggi, si sono riuniti i dirigenti dei vari settori amministrativi per tentare di trovare, di concerto con il commissario, una soluzione a sui e soddisfi le attese di tutti. Vale a dire sia dei dipendenti comunali, sia degli operai della Dasti. Il commissario Larocca continua a sollecitare la tesoreria finché conceda le auspicate anticipazioni di cassa. A dimostrazione di ciò, ha avviato anche azioni legali. Lo stesso Larocca è impegnato a risolvere gli altri problemi scaturiti dai mancati conferimenti di scarica e se i disagi persistono potrebbero verificarsi analogo in situazioni con i distacchi di energia da parte dell'Enel in scuole ed edifici comunali. La situazione ad ogni modo è in continua evoluzione.